I discorsi mi lasciano perpresso, prima cosa è l'unico servizio di alta velocità che abbiamo e io credo che se qualcuno in questa stanza lo utilizza penso che ne apprezzi il fatto che ci sia e quindi direi che è un servizio inutile, il fatto di aver costruito e fatto un servizio che da Roma a Milano arriva in tre ore e fra qualche anno ci arriverà in due ore e mezza quando sarà fatta Bologna e Firenze, beh a questo punto non vale niente. I costi di costruzione italiana sono stati molto superiori a quelli degli altri paesi e ci sono stati anche delle ruberie probabilmente, sicuramente non mi competono perché io sono entrato in ferrovia nel 2006 con 2 miliardi e 125 milioni di disavanzo, l'abbiamo riportata nel 2008 al pareggio e oggi fa 120 milioni, 130 milioni l'anno di avanzo senza aumentare le tariffe se non quelle dell'alta velocità ma facendo razionalizzazioni piacevoli o spiacevoli che siano e anche riducendo il personale che non fa mai piacere ma l'abbiamo ridotto di oltre 15 mila persone in personale. Allora qual è la differenza di costo? Il costo era negli altri paesi dai 9 ai 10 milioni a chilometro, da noi è costato 35 a chilometro. Allora primo noi abbiamo effettivamente spesso di più la Torino-Milano è stata fatta su un progetto che la affiancava all'autostrada a condizione che venissero rifatti tutti gli svincoli e tutto il sistema autostradale. Questo lo Stato italiano ha addossato, che poi lo ha fatto per un piacerebbe un altro, non lo so, ma ha addossato alle ferrovie dello Stato un'altra infrastruttura perché l'autostrada che voi vedete oggi fra Milano e Torino è stata tutta rifatta, inutilmente o meno. Lì probabilmente non si è rifatti gli sprechi. La ferrovia dello Stato o lo Stato? La ferrovia dello Stato, adesso lo Stato. Certo per le ferrovie dello Stato non sono un ente concessionario come lei ha ricordato bene, quindi non fa investimenti propri, questi sono investimenti dello Stato che vengono fatti. Lo Stato poi ha avuto la furbizia negli anni 90 di dire facciamo un project financing, il project financing fu stroncato subito perché nessun paese al mondo fa il project financing sulle ferrovie, l'unico che si è tentato è quello del canale della Manica, è fallito tre volte, il canale della Manica è fallito tre volte perché non c'è nessuna possibilità di ripagare una strada ferrata con i servizi, perché si fanno le strade ferrate, perché sono ambientalmente migliori, trasportano molte più persone e quindi c'è un vantaggio collettivo sulle strade ferrate, non c'è possibilità di pensare che se io costruisco un binario questo diventa remunerativo, è fuori dal mondo, quindi lo Stato italiano cosa ha fatto? Si ha inventato un nuovo ente che era patrimonio pubblico, gli ha addossato questo qui pensando che questo fosse fuori del bilancio statale, l'Unione Europea l'ha condannati e l'hanno rimesso dentro e questo debito è rientrato nello Stato come doveva essere prima, ma la differenza dei costi sta nelle infrastrutture aggiuntive, noi siamo l'unico paese che ha fatto una linea di alta velocità che pur quando cammina fuori dai centri urbani ha una protezione sonora, non esiste paese al mondo che l'ha fatta, noi l'abbiamo fatta, è un vantaggio, anche quando va accanto all'autostrada ci stanno le barriere sonore, perché giustamente il movimento ambientalista ha detto che era necessario fare operazioni di questo genere, abbiamo fatto conferenze di servizi in ogni comune, voi dite la Spagna e la Francia, la Spagna è un deserto, se qualcuno ha mai preso la linea Madrid-Siviglia si traccia una linea retta, non si attraversa né una città né una montagna né un fiume che lì non ci stanno e si arriva a Siviglia, aggiungo che la linea Madrid-Siviglia è in perdita perché a Siviglia non ci va nessuno, perché Siviglia è in perdita, l'hanno fatto bene a farla, non dico il contrario, mentre Madrid-Barcellona va benissimo, noi la stessa Milano-Torino il numero di comuni che si attraversano, di centri abitati, di attraversamenti è decisamente superiore a quello degli altri paesi, quindi abbiamo avuto anche dei costi da quel lato, noi abbiamo fatto un calcolo che costi ambientali più costi dei servizi ai comuni che attraversiamo costituirono il 60% del di più che si è pagato negli altri paesi, l'altro 30% sono convinto è proprio fatto da quel sistema di general contractor che quando io sono entrato in ferrovia abbiamo suggerito al ministro dei trasporti di abolirlo, fu abolito e poi dopo quando arrivi nell'altro governo Berlusconi lo ha rimesso dentro perché il problema del general contratto è veramente fatto in una truffa, non perché il general contratto sia una truffa in sé, ma perché il general contratto non prende nessun rischio e a me va bene un general contratto che mi fa chiave in mano tutto, ma a condizione che se ha un costo di più se lo prende lui, non che me lo ritrasmetti a me e questo è stato il problema, scusate. Apro il dibattito, iscrizione a parlare dal presidente, professore Cipolletta, in quanto ex presidente del ferrovia, la TAV dagli ultimi dati ormai dovrebbe costare intorno ai 18 miliardi di euro, non la TAV, il tratto famoso Modana, professor Ponte Politecnico di Milano, quindi diciamo che c'è una struttura di eccellenza in Italia. Abbiamo due regioni come la Sicilia e la Sardegna, la Sicilia c'è una monorotale da Messina a Palermo, Sardegna, Rienderiene. Allora, ci hanno rotto le balle per anni, fu Giorgio Ruffolo che era, sulla pianificazione, se lo ricordo, ogni giorno pianificazione, pianificazione, pianificazione non se ne parla più. È mai possibile che uno debba spendere questo mare di risorse? Quando Politecnico di Milano ha dimostrato che è possibile mettere in sicurezza l'attuale tunnel che c'è in Val di Susa, risparmiando questo mare di quattrini, c'è un calo anche fra l'altro nel trasporto delle merci su quella tratta lì, quando abbiamo due regioni che sono due regioni importanti da un punto di vista di per sé, ma che hanno un'importanza fondamentale nel ruolo del Mediterraneo, sia per la costa del mare, sia per il turismo, sia per tutto, che non hanno un'infrastruttura ferroviaria che è poi fondamentale, perché il trasporto su gomma, la parte di inquinamenti, i costi eccetera. Ecco, come mai non si è posto un problema di qualità dell'investimento, di obiettivo, di pianificazione del territorio? Questo è il punto. Dimenticate, due regioni, dimensi, non perché è responsabilità sua, perché lei è al governo. Chi stava nelle ferrovie non ha capacità decisionale, la decisione è pubblica. No, ma la domanda la pongo a lei con quanto studioso. Sì, ma dal punto di vista di cosa, se parliamo di alta velocità, l'alta velocità ha un senso... Parlo di ferrovia... Però noi abbiamo fatto investimenti in alta velocità, allora l'alta velocità ha un senso solo quando ci sono nodi urbani di milioni di soggetti e quindi ha una logica da Napoli a Milano, può arrivare a Venezia e può arrivare a Torino, ma quando si va altrove ha una logica di carattere investimento nazionale. Questo parlo di servizio e non parlo di infrastruttura. Infrastruttura, come dicevo prima, non si recupera mai. Però il servizio ha un senso quando ci sono centri grandi che danno un bacino d'utenza sufficiente. Poi lo Stato può giustamente decidere che anche centri piccoli che hanno bacini di utenza che economicamente non si sfruttano debbano essere in qualche maniera finanziati. A questo punto bisogna finanziare non soltanto la rete, ma bisogna finanziare anche il servizio, perché il servizio non si tiene in questa maniera. Qual è il problema dell'Adriatica italiana? L'Adriatica italiana è una città quasi che va da Lecce fino a Ravenna e questo per un trasporto è un problema, perché l'alta velocità va bene quando io ho una città di 2 milioni di abitanti da una parte e un'altra città da 2 milioni dall'altra. Lì diventa una metropolitana che ha un costo molto maggiore e ovviamente non è un treno veloce, perché quando io devo farla fermare in più punti a questo punto il treno diventerà un treno più lento. Il problema della ferrovia è che costano, quindi bisogna capire, e io su questo qui alcune ragioni appunti le do, non è detto che andare in Francia in quella maniera sia la più conveniente. Per me è molto più conveniente fare il tratto che da Milano arriva fino a Trieste, perché la popolosità del mondo, dell'Italia e dell'Europa sta là, arrivare a Verona per poter andare sul Brennero, andare in Germania, quello è molto più importante che andare in Francia dove c'è il deserto, questo sono d'accordo. Il costo della TAV a Milano è un costo però che non deriva dal tunnel tanto, deriva dal progetto che è stato fatto per tener conto delle varie esigenze, per cui quando si esce dal Monte Bianco si scende dal sud di Torino e si risale al nord e questo perché non si vuole farla passare da una parte e dall'altra. Le due isole secondo me con un buon trasporto su strada costa molto meno. Io non so se voi avete mai visto una cartina delle ferrovie italiane, le ferrovie italiane sono state disegnate nella seconda metà dell'Ottocento, quando abbiamo fatto l'unità d'Italia, sono state realizzate nella prima metà del Novecento e basta. Allora Catania-Palermo che c'è un'autostrada credo che siano 200 km e si fa con una macchina anche rispettando i limiti di velocità in un'ora e mezza, in un'ora e quaranta. Se prendiamo la linea ferroviaria, la linea ferroviaria non va dritta tra Catania e Palermo ma sale su tutte le colline perché giustamente riunisce tutti i vecchi comuni che un tempo stavano sulle colline. È ovvio che quella linea ci mette sei ore per fare Catania-Palermo. Ricostruire la linea a valle quando hanno fatto un'autostrada con un traffico fra Catania e Palermo che è bassissimo perché chi prende quell'autostrada si accorge che è vuota. Io non so se conviene. Se non converrebbe meglio mettere una bella linea di autobus fatta bene con autobus che vanno ogni mezz'ora, costerebbe di meno e avresti lo stesso servizio. Cioè bisogna ragionare in termini anche di fungibilità dei trasporti perché se no si finisce che noi abbiamo treno, macchina, autobus aereo e nessuno di questi è efficiente. Lo stesso vale per la Sardegna. Costruire linee in Sardegna secondo me è più comodo fare una bella autostrada che già c'è e fare delle buone linee di autobus. Allora direi che Stefano se tu sei d'accordo apriamo la parte di dibattito. Marco vorrei rompere il ghiaccio tu.